Per avere carte fortissime su FIFA 17, uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri IGVOLT. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa l'iscrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su IGVOLT. La vecchiaccia ti ringrazierà. Io sono sfortunato. Terribilmente sfortunato. Perché io questa partita, la più importante dell'anno, l'avevo già giocata. Sì, perché essendo il mio microfono qui presente rotto, mi faceva laggare e quindi saltare la facecam, la webcam. Quindi quando ho finito la partita, quando avevo già vinto 1-0 contro il Bayern Monaco, gol di Spinazzola, ho dovuto per forza cancellare tutto. In realtà ho il file della partita e quindi potrei anche mostrarvelo in un video speciale, in privato. Se questo video magari raggiunge 3000 mi piace, per la fine di Champions mi sembra una cifra onestissima. Però sono veramente triste e rassegnato. Voi non potete capire, ho mandato un messaggio vocale nel gruppo dei Brailless. Ero veramente fuori di me dalla rabbia perché era la partita più importante. Adesso sto registrando con il microfono del cellulare. Spero che tutto vada bene. Spero di riuscire a finire quest'ultima partita che ci manca. Poi come ho già detto, probabilmente inizieremo una nuova carriera con una squadra che avete scelto voi. E vi rivelerò alla fine dell'episodio. Ho già la maglia lì pronta. Intanto ancora una volta vi ricordo di andare a mettere tantissimi pugni di pollice perché dovete supportarmi per la finale di Champions League. Il Sassuolupo che ha vinto lo squadetto può anche essere campione d'Europa con il DualShock scarico. Non saranno delle scelte facili. Mi tocca tenere in tribuna il Papu Gomez e portare il Niang che mi dà un po' più di sicurezza. E poi giocano i titolari assoluti e le riserve sono quelle che sono. Ma intanto sono tornati sia Rashford che Bernardeschi. Bernardi giochi titolare ma in caso di vittoria la coppa ovviamente è la nostra capitana Magnanelli. Così impari a volertene andare dal Sassuolo. Spero di riuscire a vivere le stesse emozioni che ho vissuto la prima volta perché veramente erano indescrivibili. Intanto non giochiamo al Bernabeu di Madrid come l'altra volta ma giochiamo qui che non so neanche riuscito a leggerlo. Come sempre Pierluigi Pardo e Stefano Nava che ci devono portare un sacco di fortuna. Sassuolo-Bayern-Monaco è la finale più inaspettata nella storia del calcio. Più di Monaco-Porto quando vinse Murigno la Champions con i portoghesi. Non vedo il motivo per cui dovremmo perderla in finale soprattutto dopo che io in realtà l'ho già vinta. Certo che se guardi i giocatori del Bayern prendi paura. Sono fortissimi. E Florenzi debutta addirittura in finale di Champions League. Alessandro io ti ho seguito a lungo. Perché non vuoi venire a giocare nella mia squadra? Cosa ti ho fatto? Sono un po' teso perché quella coppa è maledetta per me che tifo Juventus come potete vedere. Non la vinco mai. La perdo sempre in finale e non vorrei perderla un'altra volta. L'ho già persa quest'anno una Champions dal vivo. Almeno in FIFA, almeno nella PlayStation. È tutto pronto. La palla la tocca per prima Bayern-Monaco. Calcio d'inizio. È partita la finale di Champions. Tra l'altro noi li abbiamo indeboliti terribilmente rubandogli Robben e Ribery a parametro zero. E poi giustamente non li teniamo. Gli abbiamo rivenduti. Pellegrini. Apre tutto. Che pallone per Stefano Sturaro che addirittura si inventa esterno di centrocampo. Ancora Sturaro la prova a tenere e la tiene buona. Invece no. Sturaro però poi la recupera e la mette dentro. Per Rashford. Di testa! Marcus Rashford. 1-0. Subito così. Che assist di Stefano Sturaro. Non ci posso credere che in finale di Champions League la sblocchi proprio l'uomo che più di tutti mi ha fatto dannare durante questa serie. Ti ho odiato letteralmente. Ti ho detestato. Ti ho tenuto in tribuna a marcire. E adesso nella partita più importante della carriera. Nella partita più importante della storia. Mi porti in vantaggio. Fai gol a Neuer. Il portiere più in forma. Più forte del mondo. In FIFA con le statistiche più forti. E' tu. E' tu Marcus. Segni di testa. Il mister impastisce. Non ci capisce più niente. Sassuolo 1. Bayern 0. Secondo gol in Champions League per Marcus Rashford. Ma questo qua pesa tantissimo. Va bene. Siamo già riusciti ad andare in vantaggio dopo pochissimo tempo. E adesso gestiamo la palla. Bravo Rashford che prende i falli. Che brutto pallone perso a centrocampo. Un buco incredibile. Attenzione perché c'è Coutinho. Che è in questa sessione di calcio mercato. E' andato al Bayern Monaco e pareggia subito con un mio errore clamoroso a centrocampo. E' uno a uno. E' uno a uno dopo sette minuti. Berardi. Dentro così. Ancora per Marcus. L'autore del gol. Mamma mia cosa si inventa. Per Pellegrini. Il tiro di Pellegrini in bocca a Manuel Noer. Zappacosta. Sturaro. Attenzione. Zappacosta si propone. E' buono per il cross. Anche sul suo piede debole. La mette Zappacosta invece col destro. La palla che arriva. Ancora lì. A Baselli. Che tirer in palla. Belotti. Dentro così per Berardi. Attenzione perché Mimmo ruba il tempo al difensore centrale. Mimmo in area. La mette. Per Rashford. La doppietta di Marcus Rashford. Due gol del nostro fenomeno inglese. Il tristito da noi United. Questa volta porta vuota. Ma che azione. Che assi di Berardi. 2-1 sul Bayern. Torniamo subito davanti. In una partita piena. Zeppa. Di emozioni intensissime. Mamma mia. Dovevo farlo. Ho rischiato il fuorigioco in una maniera terribile. Ma è venuto. È venuto da Dio. Guardatelo. Palla lì per Berardi. Che si brucia il difensore. Chi è Hummels. Più veloce. E poi la mette Berardi. Mamma mia se era in fuorigioco. Mamma mia se... Forse lo tiene in gioco Alabama di un capello. C'è andata da Dio. Di lusso. Ma doppietta di Rashford in finale di Champions. Ma cosa stiamo dicendo? Se solo ripenso a quante gliene ho dette. Poveretto. Tiki-tacca asfissiante del Bayern Monaco. Ecco Coutinho. L'autore del gol contro Magnoli. Passa ancora Coutinho. È fortissimo. Il pallone incollato. Donna Rumma. Attenzione. Philippe Lam. Che tipo non ha mai fatto gol con la Bayern del Bayern. Attenzione Lam. Perché non imparo a tacere? A star zitto. Guardate che gol che abbiamo preso. Guardate che gol che siamo dovuti andare a prendere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Autogol di Rugani. Sono demoralizzato. Veramente giù di morale. Perché andarlo a prendere praticamente alla fine del primo tempo. Un autogol del genere. Su un tiro di Lam. È qualcosa di incredibile. Berardi vai avanti. Dentro così. Per il Gallo Belotti. Che è l'uomo che ci ha fatto godere. Fino adesso. In tutta la carriera. Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Non ci posso credere. Con il sinistro è una posizione incredibile. Io ho tirato a caso. Non pensavo che potesse mai entrare questo pallone. Ma che primo tempo è? 3 a 2. Sassuolo sul Bayern Monaco. Non ci posso credere. Riguardiamolo. Da lì. Defilatissimo. Di Mancino. Dove la mette? Noer ha sbagliato tutto. Questo gol è una cappella di Noer. Ma che cosa ha tirato fuori Belotti? Il Gallo Belotti. Il finale di Champions. Se no non è che ha fatto la crescita del Gallo. Ero troppo preso bene a esultare. Il Gallo Belotti. Il Gallo Belotti. 3 a 2. Avviene primo tempo. E adesso ragazzi con calma. Con calma. Ancora Lewandowski. Vuole andare sul fondo Robert. Robert. Numero di prestigio. Ci salta tutti. E la palla gli rimane attaccata. È una calamita per lui. Ancora Lewandowski. Non riusciamo a prendergliela. Si appoggia ad Alaba. Va dentro da Coutinho. Proviamo a portarlo fuori. Ancora Coutinho. Numero di magia. Lewandowski. Il palo porta vuota. E c'è anche la firma di Thomas Müller. Lewandowski tira una fucilata. Palo. Mi apporta vuota. Müller trova il 3 a 3. È ancora più facile di quello di Rashford. Questa partita non vuole saperne di chiudersi. Dai Zappacosta. Cavalca l'onda. E poi appoggiati così a Baselli. In qualche modo siamo passati. E non per Rashford. La palla è interessantissima. Rashford per la tripletta. Il finale di Champions. Mamma mia. Alta di così. Attenzione perché è pericolosissima. Una punizione battuta da lì da parte del Bayern. Florenzi. Ancora Florenzi. Il palo ancora una volta ci salva. Berardi. Si appoggia. Dentro per Rashford. Che si appoggia ancora a Berardi. Poi è partito Belotti. Sull'esterno. Florenzi non c'è. È troppo alto. Però Belotti è da solo. Deve aspettare i compagni. La mette dietro per Mimmo. E va all'indietro da Baselli. Baselli. La posizione. E c'è il gol. C'è il gol di Daniele. Non l'ha mai fatto con me. È la prima volta che segna. E segna un gol importantissimo. Il 4-3 in una finale di Champions. Contro il Bayern Monaco. All'ottantesimo. Con un tiro a giro che è micidiale. Che bello è. Non riesco a trovare un aggettivo. È troppo bello. Non ci sono ancora aggettivi in grado di descrivere questo gol. Importante. Importantissimo. Esulta con Rashford. E adesso copriamo. Ci mettiamo dentro tutti i difensori centrocampisti. Primo gol in Champions. Primo gol col Sassuolo. Primo gol anche nelle partitelle. Mimmo fuori. Per Magnanelli. Questo l'avevo promesso. E questo lo devo fare assolutamente. Entra anche Bernardeschi. E voglio mettere dentro Desciglio per Spinazzola. Che è molto molto stanco. Belotti. La mantiene lì con il fisico. Addirittura butta per terra Vidal. Poi non ci credo. Un flipper favorisce loro. Un flipper favorisce loro. C'è Bacca. Ancora Bacca. Gliela ruba proprio il capitano. E fa ripartire l'azione. Dentro per Belotti. Che si appoggia a Bernardeschi. Ancora Bernardeschi per Rashford. Rashford per Belotti. Che forse è in fuori gioco. Ma non ci interessa. L'importante è andare avanti. Dentro così. Per Stefano Sturaro. Ancora Belotti. Che si appoggia per Bernardeschi. Poteva essere il suo primo gol per il Sassuolo anche per lui. Sì sì. Sono matto che la gioco dentro. Vieni a prenderla Sturaro. Vieni a prenderla. E prendi delle cinghiate da Alaba nei denti. E poi Sturaro la mette così. Per Baselli. L'autore del gol che non può perderla. Bravo Baselli che la recupera. Bravo Baselli che la dà indietro così. Bravo che la gestiamo. La amministriamo. Possesso palla. Siamo nel recupero. Il Bayern è tutto nella sua linea. Difesa. Sta arrivando il Bayern. E allora noi la giochiamo su Romagnoli. Abbiamo tutte le possibilità per gestire la palla. La mettiamo lì da Bernardeschi in cassaforte. Dentro così per Zappacosta. Adesso il Bayern è dall'altra parte. Zappacosta può spingere. Ci sta anche il 5-3. Ci sta anche il 5-3. Zappacosta. Zappacosta. Ancora lui. Ancora Zappacosta in aria. La vuol mettere. Ancora Zappacosta. Dietro per il capitano. Sarebbe bellissimo. Rashford. La mette in mezzo per Magnanelli. Magna gol. Fammelo. E finisce qui. Il Sassuolo. È campione d'Europa. C'è una sedia davanti. Per la prima volta nella sua storia. Mamma mia. Ci sono anche i Dalmat sulla finestra. Sto distruggendo la camera. Luca stai calmo. Luca stai calmo. Stai registrando. Abbiamo vinto. C'è il capitano in campo. Può alzare la coppa. Questa volta non può andare niente storto. E me la sto occupando ancora una volta. Il Sassuolo è campione d'Europa. Il Sassuolo ce l'ha fatta. Prima lo scudetto. Poi la Champions League. Altro che la Juventus. E io lo sapevo. Io lo sapevo. Sono andato a Barcellona apposta. Per alzare la Champions. Quando sono andato a vederla a Juve. Perché sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Eccoli qui ragazzi. Eccolo qui il capitano. Che dalla C2. E' riuscito a vincere la Champions. Con la maglia del Sassuolo. Sempre con la stessa maglia. Con la stessa dedizione. Taggate i magnanelli su Instagram. Ditegli che è campione d'Europa. Stalkeratelo su Facebook. Chiamatelo per Whatsapp. Fate qualcosa. Andate davanti a casa sua. Suonate il campanello. Ecco il capitano. Che prende la coppa. E la alza al cielo. Perché oggi. E' più bello essere del Sassuolo. Sassuolo. Campione. D'Europa. Non mi stancherò mai. Mai. Mai di dirlo. Adesso devo comprare lo scudetto. E la patch. Della Champions. Li devo incollare su questa maglia. Che rimarrà storica. Per sempre. Finisce qua. La nostra avventura. Con la maglia nero verde. E' stata bellissima. Intensissima. Emozioni a non finire. Veramente emozioni a non finire. Se consideriamo che la doppietta decisiva. In finale di Champions. La sigla Marcus Rashford. Che addirittura si era infortunato. E poi è tornato. E ha fatto due gol. Quando era fuori da ogni progetto. Volevo addirittura. Mi ricordo che c'è stato un momento. Che non avevo soldi per concludere il prestito. E qualcuno nei commenti mi ha detto. No Luca Tielo lì. Non si sa mai. Guardate com'è andata a finire. Ci ha fatto vincere la Coppa dei Campioni. Guardate i tifosi. C'è più gente sugli spaldi. Che in tutta Sassuolo. I fuochi d'artificio. E' bellissimo. E' bellissimo. E' veramente stupendo. Non è stato più emozionato. Forse il campionato. Perché è stato più lungo. La Champions è stata inaspettata. Bellissimo. Tutti che festeggiano. Il Sassuolo. E' campione. D'Europa. Non ci posso. Credere. Grazie ragazzi. Grazie a tutti per tutto. Ma poi che partita. Cioè. Praticamente tutte le volte che abbiamo tirato abbiamo fatto gol. Forse è andata bene così. L'altra era finita una zero. Era molto più brutta. Allucinante. Allucinante. Non pensavo di poter fare un double così importante. Quindi l'unico trofeo che mi manca è la Coppa Italia. Impossibile. Ma il Sassuolo. E' campione d'Europa. E adesso c'è la Nazionale ma non la giocheremo assolutamente. E poi in questo momento c'è qualcosa da fare. C'è da andare negli incarichi e scegliere una nuova squadra. Intanto ho fatto una cappella incredibile e me l'avete detto nei commenti. Dato che le straniere cambiano tutte le volte. Quindi avrei potuto scegliere solamente le italiane rimaste. E questo screen decreta che la Juventus è stata in assoluto la squadra più votata da voi. E questo mi riempie ovviamente il cuore di gioia. Essendo io tifoso della Juventus. Abbandono il Sassuolo per una squadra veramente importante. La mia Juve. Tra l'altro c'ho già la maglia nuova e quindi torna veramente veramente utile. Vi spiego come sarà la storia. Sarà una singola stagione. Due episodi ogni settimana. E l'obiettivo sarà quello di fare il triplete. Perché la Juventus non c'è mai riuscita. Sarò meglio di Allegri. Sarò meglio di Conte. Sarò meglio di Lippi. Lo decideremo solamente insieme. E quindi ragazzi per la prima volta mi tolgo la maglia del Sassuolo. Scusate per il brutto spettacolo. Ma mi metto quella della Juventus. Un po' come ho fatto con la Sampdoria l'anno scorso. Ed è stato dura togliersi quella della Sampdoria per metterci quella del Sassuolo. Ma con il senno di poi è andata benissimo. Per superare una stagione così forte come quella che abbiamo appena concluso. Dobbiamo per forza fare il triplete. Ragazzi questa maglia la conserverò. La conserverò veramente tanto. Sto pensando di fare un quadretto uguale a quella di Del Piero. Perché è un pezzo di storia del canale. È un pezzo di storia di Luca Toselli. Prima di Foolish quando ancora non avevo cambiato nome. È un pezzo di storia anche vostro. Quindi davvero se avete qualche idea su dove possa reperire lo scudetto e la pace della Champions fatemelo sapere. Perché devo assolutamente renderlo un cimeglio storico. Questa maglia rimarrà per sempre nei nostri cuori. Accettiamo subito la Juventus. Ho fatto la domanda per l'incarico. Perché in questo momento Marotta, Agnelli, Paratici, Nedved mi hanno appena detto che sono ufficialmente l'allenatore della Juve. Vediamo l'offerta. Andiamo ad accettarla immediatamente. E iniziamo un nuovo capitolo. Tutti insieme. Ancora una volta. Per vincere sempre di più. Incredibile. Questo è l'episodio perfetto. L'episodio conclusivo perfetto. Abbiamo vinto la Champions e sono andato alla Juventus. Iniziate a scrivermi qui sotto nei commenti che sono i giocatori da andare a comprare per riuscire a fare uno storico triplete anche in maglia bianconera. Sampdoria, Sassuolo, Juventus. Quale sarà la prossima? Vi voglio bene. Grazie di tutto il supporto che avete dato alla carriera allenatore con il Sassuolo. Sto iniziando a capire che è finita davvero. Sassuolo, Juventus. Grazie di tutto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.